Decine di siringhe e svariato materiale riconducibile al consumo di sostanze stupefacenti e di alcol sono state trovate questa mattina nel boschetto e negli anfratti più nascosti del parco Miralfiore in un'operazione di pulizia ambientale organizzata dal centro di recupero pesarese Narconon Alfiere. Operatori e ragazzi ospiti del programma riabilitativo si sono rimboccati le maniche con guanti e sacchi della spazzatura per un'operazione di sicurezza, decoro e tutela ambientale che dà un'ulteriore sottolineatura alla piaga di spaccio e tossicodipendenza all'interno del parco. Siamo qua al parco Miralfiore noi operatori insieme ai ragazzi. Sono 30 anni che noi operiamo sul territorio e combattiamo contro l'uso di alcol e droghe. L'iniziativa è partita per rintegrare i ragazzi nella società perché comunque il nostro percorso è un percorso pedagogico che sfrutta proprio queste iniziative per poter aiutare i ragazzi nel loro percorso di riabilitazione. Oggi abbiamo trovato più di 30 siringhe e una cinquantina se non un centinaio di bottiglie di birra. Nel parco Miralfiore vengono molti tossicodipendenti e qui però vengono anche le famiglie. Il nostro obiettivo è ripulire questo parco per far sì che le famiglie con i loro bambini riescano a viverlo al meglio. Vivere fuori l'esperienza senza aver fatto uso di droga per me è una cosa molto emotiva perché ritrovi le emozioni che non hai ritrovato quando facevi uso di droghe. Uscire dal programma per me è una cosa nuova perché rivivo le giornate, la routine e tutto. molto più tranquillo, sereno, ho ritrovato la pace in me stesso. Mi vivo la famiglia, mi vivo il lavoro, mi vivo la giornata, la quotidianità più tranquilla, più serena e soccondendo del mio percorso che ho fatto al Narconon perché rinasci da tutto. Portiamo i ragazzi a riabilitarsi alla vita dal lato umano, dal lato sociale. In più abbiamo iniziato questa giornata con la collaborazione del sindaco e due assessori di Pesaro e siamo contenti di questa collaborazione perché entrambi siamo sul territorio, noi come Narconon, Alfiere e tutto quello che è la politica di Pesaro e quindi siamo soddisfatti di questa collaborazione.